Tentato omicidio a Napoli. I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 26enne già detenuto per altra causa. Ad emettere il provvedimento il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo gli inquirenti, l'uomo è gravemente indiziato in concorso con un'altra persona da identificare del tentato omicidio di un 31enne. I fatti sono avvenuti lo scorso 4 dicembre 2021 e, secondo una nota della Procura, sarebbero avvenuti con premeditazione e con l'aggravante del metodo mafioso. L'indagato, infatti, avrebbe agevolato il consolidamento del clan egemone nel rione Sanità con tale gesto. Le indagini sono iniziate due giorni dopo il delitto, tra l'altro mai denunciati, e hanno permesso di chiarire la dinamica. L'incontro sarebbe avvenuto con un pretesto, poi l'indagato avrebbe rovesciato della benzina sulla vittima per poi dargli fuoco. Il 26enne avrebbe inoltre commesso i fatti violando la misura degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. A soccorrere il 31enne aggredito, la madre. La donna, infatti, ha spento in tempo le fiamme salvandogli la vita, e permettendo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli per ustioni di sedi multiple del corpo. Riconducibili a dinamiche criminali locali ancora al vaglio degli inquirenti, le motivazioni del tentato omicidio.